Con la maglietta dell'ESA volevo annunciarvi come avete letto proprio qui sotto dal titolo che terrò un workshop gratuito qui a Milano il 23 e il 24 ottobre proprio alla Cineteca infatti vi basta semplicemente andare sul link che trovate in descrizione per trovare tutte le informazioni di quello che faremo all'interno di questo workshop sono troppo felice che la Cineteca abbia deciso di invitarmi per realizzare questo workshop quindi in queste 6 ore, in particolare 2 ore di sabato e 4 ore di domenica realizzeremo un videogioco insieme, io ovviamente porterò il mio computer voi potreste portare il vostro computer a un tablet per seguire insieme ovviamente tutte le varie lezioni il corso è a numero chiuso ed è ovviamente soltanto per quelle persone che si iscriveranno e parteciperanno quindi fisicamente al workshop stesso per partecipare vi basta semplicemente chiamare proprio la segreteria per evitare che appunto qualcuno si prenoti e questo comporterebbe magari non far venire delle persone e quindi avere dei posti vuoti cosa faremo in questo workshop? beh sicuramente per quelle persone che mi conoscono potrebbe essere un'opportunità per vedermi dal vivo e soprattutto magari farmi anche delle domande post workshop o prima magari potremmo anche decidere di andare a mangiare qualcosa insieme a bere un drink, a fare qualsiasi cosa insieme ma tra l'altro potrebbe essere un'ottima possibilità anche per rivedere le basi di Construct insieme e vedere appunto direttamente dal vivo come programmo e come realizzo videogiochi infatti all'interno di questo workshop quello che faremo è realizzare un videogioco o più di uno utilizzando la versione gratuita porterò direttamente io dei materiali, vedremo come trovare le grafiche, vedrete come io realizzo i miei videogiochi vedrete i siti che utilizzo, come utilizzare i font, come generare dei font vi farò vedere proprio come creare videogiochi utilizzando la versione gratuita di Construct quindi secondo me si adatta poi a tutte quelle persone che vorrebbero domani continuare a creare videogiochi con questo tool che come sapete è il programma che mi ha permesso oggi di poter trasformare la mia passione in professione non voglio allungarmi troppo perché secondo me tutte le informazioni trovate direttamente all'interno della pagina internet ufficiale che trovate proprio nella descrizione e vi basta semplicemente telefonare per avere più informazioni o per iscrivervi a questo workshop vi consiglio di portare il computer in modo tale che potrete programmare insieme a me se non avete la possibilità di portare un computer secondo me il corso potrebbe comunque essere eseguito perché vedrete step by step comunque come io realizzo videogiochi quindi secondo me sarete anche poi disposti a farmi delle domande e così via la divisione degli orari la trovate direttamente sul sito dovrebbero essere due ore il sabato e quattro ore la domenica aspettando quindi prima di pranzo e dopo pranzo e magari potremmo andare proprio a pranzare insieme fatemi sapere se ci sarete, sarei troppo felice ovviamente il 23 e 24 ottobre ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!